Ciao a tutti ragazzi, io sono Rossi, ma questo lo sapete già Oggi faremo un back to school Questo back to school sarà bellissimo, stupendo Però prima di iniziare iscrivetevi al canale Cliccate la campanella se non l'avete già cliccata E mettete un mail in via se vi piace il video E iniziamo Niente, ciao Ok, allora Come prima cosa Le mie penne cancelline, bellissime, ottime Che se tu fai uno sbaglio Le puoi perfettamente cancellare Ultima tecnologia in realtà da tempo Però comunque ve le consiglio tantissimo Belle, belle Ora, ciao, ciao Ora passiamo alla gente di cioccolato buona E della marca, non lo so, però comunque è bella Le pagine neanche sono fatte di cioccolato Cioè non sono fatte di cioccolato, sono bianco Però comunque, bella, bella Ora passiamo al astuzzo di Rose Della Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda-Leda e poi c'è scritto anche il mio nome qui c'è tutto il materiale scolastico ve li consiglio questi borsellini perché sono molto molto utili e non dovete fare la bagianza tutto quanto per il vostro materiale scolastico avete già tutto lì poi abbiamo i colori giotto questi ve li consiglio tantissimo e infine abbiamo i colori della fila abbiamo i colori a matita della fila belli di tutti i tipi ora però passiamo passiamo alla cicatrice metallica rossa con una gomma molto bella se serve noi la teniamo io la tengo nel caso me non l'aveste comprata però io la tengo molto bella rossa io non sono amante delle rosse però comunque bella bella ora però passiamo alle cose fondamentali ovvero i quaderni non vi posso vedere solo un paio mi piacciono davvero tantissimo perché ragazzi sono davvero tantissimi sono tipo nove sono nove passiamo a questo blu bello ciao poi abbiamo il quaderno degli unicorni bellissimo gli unicorni magic unicorni poi teniamo un quaderno con le scarpe di dance poi teniamo un quaderno con le lol bello anche questo poi teniamo questo qui della 7 giusto? si dell'omigod comunque della 7 teniamo quest'altro bello sempre magic unicorni l'altro era di matematica o di italiano non lo so poi teniamo il diario degli unicorni potere degli unicorni comunque bellissimo bellissimo tutte per scrivere tutte cose ora però passiamo ai pezzi no prima prendiamo i pezzi forti perché ragazzi questi sono dei colori belli normale ma ragazzi tenono il timbro guardate questo è un timbro e davanti ovviamente ci sono i colori vabbè normalissimi i colori rossi però sono bellissimi e infine per concludere tutto abbiamo lo zaino 7 rosa lo zaino 7 rosa a me mi è costato 50 euro però ragazzi non so perché era in offerta non so normalmente ragazzi udite udite tiene le cuffie le cuffie attaccate perché non si possono togliere ovviamente bravi 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 ok e ragazzi questo back to school si conclude qua e vi do un buon abbraccio lasciate un like mi piace se vi è preso del video ricordatevi di seguire il canale e seguiremi anche sul primo canale perché ragazzi questo è l'orellano ad amico secondo secondo ciao ragazzi oh my god nè